L'emergenza smoke in Abruzzo, come nel resto della penisola, rimane un problema cronico, visto che nessuno dei 102 capoluoghi di provincia italiana analizzati nel 2021 rispetta tutti e tre i valori limite suggeriti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ossia la concentrazione di polveri sottili, di PM10, di particolato e di biossido di azoto. E' quanto emerge dal report Malaria di Lega Ambiente illustrato oggi alla stampa dal presidente regionale Giuseppe Di Marco e dalla responsabile regionale di U4Planet, Silvia Tauro, i quali hanno evidenziato che nel periodo della pandemia la presenza di sostanze inquinanti nell'aria è diminuita rispetto agli anni precedenti, ma è stato comunque accertato che dove c'è più smog aumentano i casi Covid. Tutti i nostri capoluoghi devono intraprendere un percorso preciso di risanamento della qualità dell'aria. I dati medi quindi su cui si attestano anche le altre città italiane li abbiamo su Chieti e Pescara, un po' più positivi quelli di Chieti, un po' meno quelli di Pescara, mentre possiamo dire di avere fortunatamente anche una buona vetta positiva con l'Aquila che già rientra quindi soprattutto per la concentrazione di PM10 nelle nuove medie stabilite dall'OMS e purtroppo invece un picco negativo su Teramo, dove siamo di molto al di fuori del valore del biossido di azoto rispetto a quanto stabilito appunto dalle linee guida che si soffermano sulla tutela quindi soprattutto della nostra salute e non solo delle condizioni climatiche. Intanto parte la campagna itinerante Clean Cities con 17 tappe nei capoluoghi italiani, tra i quali Pescara, dove si svolgeranno iniziative il 26 e 27 febbraio. Questa campagna lega il tema della qualità dell'aria quindi è un modo per focalizzare all'interno della città di Pescara che è il laboratorio scelto all'interno diciamo del quadro nazionale quali sono poi le reali azioni che vengono messe in campo in modo virtuoso per portare ovviamente la città di Pescara ad essere una città pulita quindi sostenibile da questo punto di vista della qualità dell'aria ma anche per quanto riguarda altri elementi come la mobilità e il valore dell'intero ecosistema urbano. Sarà una due giorni che svilupperemo anche in collaborazione con l'amministrazione comunale per vedere anche ed entrare un po' nel dettaglio di come vengono utilizzate le risorse messe a disposizione, c'è tutta l'aspettativa sul piano nazionale di ripresa e resilienza ma anche su come socializzare questa nuova visione della qualità della vita delle nostre città con cittadini e iniziative che coinvolgeranno un po' tutta la platea.